Amici di Football is my life, ciao a tutti, ciao a tutti dal parco dello Stelvio e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi do sul fantacalcio. Come è andata il fantacalcio? Come è andata la giornata del fantacalcio della mitica Via Tasso Fudo Club? Allora, in questa giornata giocavamo contro il Belfiga. È stata una partita bruttina, una partita con poche occasioni da gol sia da una parte che dall'altra, però alla fine il Belfiga è rimasto in dieci uomini. E noi, approfittando della superiorità numerica, abbiamo vinto 1-0 e godo come un animale! Godo! Ma com'è bello vincere 1-0! Ma com'è bello vincere 1-0! Ma com'è bello vincere 1-0! Qua intanto anche i cani stanno esultando, sentite, ma quanto è bello vincere 1-0! Eh? 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 Quanto è bello vincere 1-0! Comunque, iniziamo un po' a vedere i punteggi delle due squadre e partiamo dal mio avversario, dal Belfiga. Belfiga che ha totalizzato 62 punti e mezzo. Allora, Cragno si prende 7 e mezzo, più 1 per il Tninshit. In difesa, Rugani 5 e mezzo, Acervi 6, De Ligt 5, meno mezzo punto per il cartellino giallo, anche Rugani era stato ammonito. Poi, centrocampo, Tonali 6, Viola 6, Jankto 5 e mezzo, Struttmann 4 e mezzo, meno mezzo punto per l'ammunizione. In attacco di Carmine 5, anche lui ammonito, Lukaku 11 e mezzo, gol più assist. L'Aviatasso Football Club, invece, ha totalizzato 70 punti. Di questi 70 punti, allora, Sirigu 6, 6 politico perché non si è giocata Torino-Sassuolo, quindi giocatore di queste due squadre si sono presi il 6 politico. In difesa, Faraoni 6 e mezzo, Di Marco 6, Martinez 4 a 6, meno mezzo punto per il cartellino giallo. L'ho visto giocare due o tre volte, è veramente un difensore della Madonna, la sua colpa e il suo limite è che ogni cazzo di volta deve prendersi un cartellino di merda. Poi, centrocampo, Kuczka 6 e mezzo, Mkhitaryan 5 e mezzo, meno mezzo punto per il cartellino giallo. Zaccagni 6 e mezzo, Barak 9 e mezzo, gol ma anche ammonito. Belotti 6, Simi 5 e mezzo, Ilicic 6. Il tutto per un totale di 70 punti. Per il resto, guardando un po' le altre partite, è stata una giornata così, una giornata nella norma, una giornata di transizione. Perché pareggiano le prime due sia gli amici di piazza o clown team che pareggiano 1 a 1 contro il fanalino di coda Real San Mornico, che l'SD Sognatori che impatta 2 a 2 contro il team Jan Grugge. Giornata favorevole invece per il Big Teta Pig, perché la mia bestia nera ha vinto 2 a 0 contro la C Dolattico, la squadra di mio fratello, e si sta avvicinando lì al terzo posto in classifica del team Jan Grugge. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto della mia ultima giornata del fantacalcio. Fatemi sapere cosa ne pensate. Il quale al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del pianisfero, a dire poi, ma quanto è bello vincere 1 a 0, ma quanto è bello vincere 1 a 0, ma quanto è bello vincere 1 a 0. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!